Non ti che senti che sarò il censimento? Ah, che se lo so, ma non è mica già fatto! Ma come ti che ha già fatto? Sei che appena veniva fuori per le case. Ma dai, ma piccia mia, ma dove ti vivi? Dai, la prima fase si fa online. Ma si è facile, dai, basta registrarti. Vieni che adesso mi te mostro. Quest'anno puoi partecipare al censimento anche comodamente in autonomia. dal 13 al 26 settembre. Basta essere registrati alla piattaforma eGragiani e compilare il questionario online. S'ha fatto? Che comodo! Ma ti ho detto che è facile. Basta fare un clic e si è fatto. Fe lo anche voi! Censimento della popolazione 2021. Ci sono risposte che contano. Esprimi liberamente la tua identità. A presto! A presto! Grazie.